Un saluto a tutti gli amici di Spazio Games, Tokyo Game Show 2017, abbiamo provato Yakuza Kiwami 2, qui in Giappone conosciuto come Ryuga Gotoku Kiwami 2. Praticamente è il remake del secondo capitolo uscito quasi dieci anni fa su PlayStation 2, che viene riproposto in una nuova veste grafica con un sacco di nuovi contenuti. Essenzialmente utilizzerà tutto quello che è già stato utilizzato in Yakuza 6, tra cui il nuovissimo Dragon Engine. Si potranno fare un sacco di nuove combo, sono stati alzerati completamente i tempi di caricamento, tutto avviene in tempo reale e soprattutto, grande novità, avrà un forte collegamento con Yakuza 0, in quanto la figura di Majima Goro sarà fortemente presente all'interno della trama e dell'universo di Yakuza Kiwami 2, tant'è che avrà una sua storyline legata e anche dei minigiochi legati alla costruzione della sua famiglia, che poi metterà le basi sugli avvenimenti che accadranno da Yakuza 3 in poi. L'appuntamento per quanto riguarda le versioni occidentali ancora non c'è stato modo di saperlo, però il gioco uscirà qua a dicembre, aspettiamo e intanto siamo curiosi di, anzi abbiamo un hype fortissimo nel metterci le mani sopra in una versione localizzata.